ciao duromitici per il filo che abbiamo iniziato io ho pensato di leggervi una poesia da una raccolta di poesie sulla montagna che si chiama monti diversi che è stata curata dall'associazione amici del museo di taibong vi leggo la prefazione perché secondo me adatta a questo momento e allo scopo di questo filo oltre che al gruppo allora dice ci siamo volutamente affidati alle parole dei poeti per poter esprimere l'eterna bellezza e grandiosità dei monti e il desiderio di poterne assaporare ogni singola manifestazione nei modi più consoni al proprio essere questa raccolta condividendo le parole di quintino sella e dal discorso tenuto in occasione del settimo congresso degli alpini italiani il 10 agosto 1874 e dice diceva quintino sella via nelle alpi tanta profusione di stupendi spettacoli che anche i meno sensibili ne sono profondamente impressionati di questa raccolta vuole essere un invito a riprendersi il tempo a riassaporare la lentezza del gesto a faticare per giungere alla meta a lasciar vagare lo sguardo che cogliendo momenti diversi li fissa nella memoria come un dono da conservare gelosamente ora tempo ne abbiamo è quello che spesso ci manca nelle nostre giornate frenetiche questa frenesia si è inquietata d'improvviso per motivi non piacevoli e allora assaporiamo una poesia contenuta dentro questo libro anche se è corta a me piace moltissimo questa salita verticale scritta da tal nievo che credo essere stamislao nievo di nascita milanese degli anni 30 e che scrive salita verticale attaccato a un filo un uomo saliva sulla torre del tempo e pesava i metri di paura la testa perdeva i pensieri libera d'aria vertiginosa e di purezza vuota allora gridò e per vivere si fermò sulla parete rugosa pur di amare almeno una pietra muta ciao dormitici ciao